Tutto è pronto, siete nel fischio d'inizio in questa ventunesima giornata in Serie C Gara fra Botafuga, quarti in classifica e Young Boys secondi In classifica subito, attenzione Deo, va a pressare Giuliano Deo Cananzi di testa e la sblocca lui Salta benissimo ed incorna, porta in vantaggio Young Boys ai primi minuti di gioco E sicuramente questo vantaggio inaspettato dei ragazzi Young Boys Atenzione Deo, bella l'imbucata e il tocco sotto, che giocata, peccato Atenzione Santoro, c'ha lo spazio per andare, calcia col destro Palla a lato di poco, ha segnato De Silvestri Barrese del pisco, prisco col destro, un fulmine, poco a lato, si ci sta Ci entra anche Ise, si trova lì, tranchese, palo gola ed è il 2-0 degli Young Boys Vero, incredibile partita ragazzi, maia lancio, lo stanno cavando, direggiamente Pure io ho bisogno di un passaggio, sta pieno Prisco con il destro, l'area è spinta di De Cicco Mella cerca spazio, bagaggio Palla buona del Prisco Prisco cerca spazio, buona chiusura Palla ancora tre piedi per Botafuga Atenzione Giuliano, Giuliano rientra sul destro, ancora una finta Giuliano, 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 palacio da Sommella Punta Cananzi se ne va, Sommella al centro Prisco, il tapire la rete Accorcia le distanze Che azione De Botafuga arriva al gol del 2-1 Taggato, ma capisco Attenzione, se le trova lì Gravino A tu per tu con Nei topi, si dipone all'area del 3-1 E poi, palo colpito Gravino lancia Tranchese Tranchese, buono stop Tranchese Tranchese, colpo di tacco Illuminante per Deo, calcia Deviazione Il tiro Tap in Da calcio d'angolo Nessuno marcava Gravino Secondo gol da palla inattiva Per i ragazzi di Young Boys Che allungano nuovamente le distanze 3-1 Il punteggio Ma che è quello? Quello che avete salutato? Non so La ti sta salutando un Cirro È Cirro Tiro di Prisco Finisce qui la preparazione di gioco Sul punteggio di 3-1 E vale 3-1 Si Si riparte dal 3-1 per i Young Boys Davvero una partita vincente questa Contro i Botafuga Che hanno schierato una formazione Di altissimo livello Però Stanno Stando fuoco alle polveri i ragazzi in maglia aranci Ragazzini anzi Sto a fronte della Attenzione subito a questo tiro di Barrese Si C'è l'unico Dire che gli avversari Stanno veramente dando Ante una prestazione Anche se erano sfavoriti sulla carta Ma devo dire che Il gioco che esprimono è davvero Sfavillante Assolutamente si Vincenzo A fronte della loro età inferiore agli avversari Stanno davvero Mettendo in difficoltà i ragazzi di domestico Attenzione Deo Deo subito E vicino al 4 ad 1 Alla futsal Se mi permetti La ruletta E E Ma sai perché mi piacciono Perché stanno giocando a te stavolta Sono bravo Aranci Mi sono bravo Mi piacciono Per l'età che tengono Non ti mi piacciono Dai Fabio che te lo mangi vai Deo 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 col mancino Che gol Di Fabio Deo Il gol del 4 ad 1 Solito spunto Incredibile Non giochi Manca a calcio a 5 Mi ricordi quando pagano Un bielo Rosso Rosso Ah L'erlo vitiello per l'erlo Fatta vitiello Oh c'è un'aiuto al destro Sommella 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 Assione personale Solita Di Sommella 4 a 2 Amarina Checco Continuano a giocarla veloci Ragazzi di Young Boys Sontrante Vantaggio Santoro Allunga Deo Deo col mancino Palo Colpito da Deo Palaga E' salita Santoro Destro di Gananzi Ancora Li topi Palabona Solo per un attimo Per un attimo Sommella Sommella La piazza Ed è anche cambio Proprio Ai risosso del cambio E go del 4 a 3 Ci credono Ragazzi Potafuga Adesso E cambio C'è una trancheese Alle spalle di domestico E poi d'acco Per Santoro Prova a piazzarla Ancora Li topi Vicidiale In avanti C'è il taglio Di Gravino Con la controlla Attenzione C'è Santoro Gravino Santoro Santoro Li topi Dice no Deo Deo Allo spazio Per calciare Lo fa E segna I go del 5 a 3 Non I migliorni topi Però arriva il gol Che è a lungo Ancora le distanze Per Ian Goiz Come fa Deo Ci han fotti La sera Alla lunga Da verba Rese De Cicco Lancia a lungo Attenzione Sguarnita la difesa C'è Deo Deo Mamma mia Il coniglio Dal cilindro Stava per segnare Il gol dell'anno Fabio Deo Salva la fine Deo 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 Il mancino Finisce qui La vittoria Young Boys Incredibile partita Ragazzi Mai arancio 5 a 3 Iniziamo con gli Young Boys In particolare Andiamo a frenare Migliori capo Questa gara A tre Da I ragazzi Qui con la domenna Contro l'Iumene Vodafugo Una partita davvero incredibile Da parte vostra Avversari che Forse alla carta Erano superiori Ve la siete cavate Di mostrarvi davvero Sul campo Chi meritava di vincere Non avete fatto Davvero una partita Soprattutto la parte tua Nell'intera difesa Decisiva Perché ovviamente Loro Con un attacco Molto forti La difesa Più forte del campo E' sicuramente Anche più scato Ma si allargami E' tipo Suacro Comunque Questi Young Boys Appromettono anche Dalla sconfitta Dalla prima in classifica Per provare in vetta Non si dice mai Non si dice mai Benissimo A chi va questa vittoria? Alla Sanzone 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 Sì Alla Sanzone Alla Sanzone Luca Miraglia Odio a Luca Luca Sei bellissimo